Ciao, sono Elena Rocco, sono una ricercatrice universitaria e sono anche la mamma di un ragazzo con bisogni speciali. Ad un certo punto nella mia vita le due strade si sono intrecciate e nel 2012, grazie all'aiuto di alcuni amici generosi, è nata Fondazione Radiomagica. La missione di questa radio che potete trovare su www.radiomagica.org è abbattere le barriere di accesso alla cultura per bambini e ragazzi con bisogni speciali, offrendo storie in tanti formati diversi, audio, video con la lingua dei segni italiana e video con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa. Siamo una radio da ascoltare per tutti, ma da sempre il nostro spirito è stato quello di coinvolgere bambini e ragazzi nelle attività di narrazione, perché imparare a comunicare è importante. Farlo assieme davanti a un microfono, anche una telecamera, è un'importante occasione di apprendimento. Oggi questi ragazzi hanno concluso la scuola, sono diventati giovani adulti e desiderano continuare a imparare. Ci è sembrato doveroso non interrompere il percorso iniziato e pensare per loro un'opportunità nuova. Si chiama Radio Magica Academy. È un progetto culturale e sociale, innovativo e i protagonisti sono proprio loro, ragazzi e ragazze con bisogni speciali. Guidati da professionisti, questi giovani allievi mettono in gioco la loro creatività attraverso laboratori di teatro, laboratori di arte, laboratori di musica, di danza, per raccontare storie, storie personali e storie del territorio. Grazie alle aziende che hanno deciso di unirsi a noi in questa avventura e grazie a voi per l'aiuto che vorrete dare a questa nuova Radio Magica Academy. Grazie a tutti.